Comune a Marino è la bicicletta in questo caso, perché proprio questo simbolo? Io le assicuro che andavo in bici anche prima che Marino diventasse sindaco di Roma, glielo assicuro, ce l'ho da prima. Voi nel Movimento 5 Stelle siete contenti che Berlusconi abbia confermato del Tolaso perché sono qua?